Durante l'estate, a maggior ragione con le alte temperature di queste settimane, è necessario prestare molta attenzione alla conservazione dei medicinali sia a casa che in vacanza. I consigli arrivano dalla dottoressa Barbara Meini, direttrice del Dipartimento del Farmaco della ASL Toscana Sud-Est. La prima cosa da fare è leggere attentamente il foglietto illustrativo, il cosiddetto bugiardino e il confezionamento esterno. Nel caso in cui non siano specificate particolari condizioni, i medicinali devono essere conservati in ambienti freschi e asciutti, a temperatura inferiore a 25 gradi centigradi. In viaggio è meglio avere borse refrigerate, ma nel caso di medicinali che devono essere conservati in frigo ad una temperatura compresa tra 2 e 8 gradi, è necessario un frigo portatile con carica batteria. Se si viaggia in auto, l'abitacolo è più fresco del portavagagli. In aereo è preferibile portare nel bagagliaio a mano i farbaci salvavita insieme alle prescrizioni per eventuali controlli. Evitare di esporre i medicinali a fonti di calore e a irradiazione solare diretta, e non separare il blister dalla sua confezione esterna. Nel caso fosse necessario acquistare un medicinale mentre si è in vacanza, ma senza avere con sé copia della ricetta del proprio medico curante, la confezione originale che riporta alla composizione potrà essere d'aiuto. Infine, porre l'attenzione anche all'aspetto del medicinale che si assume abitualmente. Se si nota un colore diverso o diversa consistenza, oppure un odore anomalo, è necessario rivolgersi al farmacista prima di assumerlo. In caso di esposizione solare è importante ricordare che alcuni farmaci potrebbero provocare reazioni di fotosensibilizzazione cutanea.